blitz delle forze dell'ordine oggi a fano nel parcheggio dell'ex foro boario ore 9 di questa mattina 18 agenti 10 della polizia locale e 8 del commissariato di fano alcuni in borghese la maggior parte in divisa dopo aver bloccato le vie d'accesso al parcheggio hanno fatto scattare la retata per bloccare ed individuare tutti gli extracomunitari presenti in quel momento ed in 9 sono stati fermati ed identificati due dei quali sono stati poi portati in commissariato per approfondire la loro condizione tutte le operazioni si sono svolte in assoluta regolarità nessuna intemperanza o situazione critica si è verificata ci precisa il commissario di quirico che coordinava sul posto assieme alla parigrado laura polverari le unità della polizia municipale presente con tre mezzi che ha anche effettuato un sequestro amministrativo di merce irregolare trovata in possesso degli extracomunitari ed elevato alcune sanzioni amministrative come prevede il codice gli uomini del commissariato oltre alla volante sul posto coordinati dal dirigente stefano seretti hanno verificato per tutti i fermati il loro status ed i permessi di soggiorno risultati poi essere regolari ed effettuato anche controlli ad personam su nessuno di loro però è stata trovata alcuna sostanza stupefacente molti di loro ci precisa il dirigente sono pendolari e provengono da fuori provincia esclusivamente in occasione del mercato settimanale e si uniscono così agli stanziali l'operazione congiunta di questa mattina tra polizia locale e polizia di stato rientra in un progetto di controllo e monitoraggio del territorio in linea con le disposizioni a livello nazionale operazione svolta sotto gli occhi degli abituali frequentatori del parcheggio diretti sia in ospedale che in centro storico che non hanno esitato a manifestare agli agenti presenti tutto il loro compiacimento per l'operazione in corso e la sensazione di sicurezza che dà il vedere una divisa sul posto con l'augurio che questa sia la norma e non l'eccezione